Il 21 giugno, nel sostizio d'estate, si celebra la giornata mondiale anti-SLA, sclerosi laterale amiotrofica. Una data non casuale che esprime la speranza di un punto di svolta per quella che riguarda la ricerca sulle cause di una malattia che in Italia, ad oggi, colpisce circa 6.000 persone, ma che vede purtroppo i casi in aumento. Una malattia invalidante che stravolge la vita non solo della persona affetta, ma a tutto il nucleo familiare. I malati pistoiesi sono in aumento, sono circa 40. Oggi vorrei dare il mio grande saluto di tutta la famiglia a ISLA e in particolare a ISLA Pistoia perché oggi è una giornata importante. È il 21 giugno, sostizio di estate, ed è la giornata mondiale. In tutto il mondo si parla di ISLA. In tutto il mondo abbiamo e uniremo le nostre forze per dare capacità alla ricerca di andare avanti. È uscito un nuovo farmaco e questo ci dà un'enorme speranza. È importante garantire servizi, è importante far sentire la nostra vicinanza. I casi sono comunque in aumento, l'importanza della fisioterapia? Sì, i casi sono in aumento, ma bisogna dire che i cittadini pistoiesi e la piana della nostra provincia è fortunata. Abbiamo un team dedicato proprio al percorso SLA guidato dalla nostra neurologa dottoressa Chiara Sonnoli. È un team di 30 persone che agisce in favore di una presa in carica multidisciplinare. La fisioterapia è importante perché fa sì che la persona che ha avuto la diagnosi percepisce che in quella ora, in quella particolare giornata, ci sarà un'ulteriore figura che si prende cura di lui. E questo è importantissimo a livello psicologico.